Un saluto a tutti gli amici di SmartphoneLab.it, benvenuti alla recensione del primo smartwatch con Android Wear. Stiamo parlando ovviamente di LG G-Watch. Ok, questa è la confezione di vendita. Per vedere il nostro unboxing vi basterà andare sul canale di SmartphoneLab.it oppure sul nostro sito. Mettiamo da parte l'androidino e per ora anche il telefono. Vi farò vedere poi a che cosa serve. Facciamo un piccolo zoom in, ok? Per accendere, per caricare il G-Watch ci servirà questo Pogo Pin che verrà inserito nella confezione. Come caricarlo e come metterlo? Allora, è magnetico, quindi ci basterà far combacciare questi due pin e ok. Si accenderà lo smartwatch. Smartwatch che è in metallo sui bordi, sulla parte posteriore è in plastica, mentre sulla parte anteriore dove c'è il display è in metallo. Cinturini in silicone, intercambiabili con altri cinturini da 22 mm a scelta. A differenza di, ad esempio, Gear 2, eccetera, eccetera. Android Wear. Ok. Mettiamolo un attimo in silenzio, in standby. E mettiamo da parte il nostro Pogo Pin. Partiamo con le dimensioni. Abbiamo 37,9 mm di larghezza, 46,5 mm di altezza e 9,95 mm di spessore, che diciamo che al polso non dà particolari problemi. Snapdragon 400 da 1,2 GHz come processore, 4 GB di storage interno, ci sembrano molti come il processore, diciamo che è troppo potente per questo smartwatch, 512 MB di RAM. La batteria è la più grande negli smartwatch, parliamo di una 400 mAh che ci garantisce una giornata e mezza di intenso utilizzo e anche tre giornate di utilizzo blando. Supporta ovviamente l'USB come abbiamo fatto vedere prima. Sistema di sensori a 9 assi con accelerometro, giroscopio e pedometro. Tutto questo in 63 grammi. Diciamo che, a differenza di altri orologi, è abbastanza leggero. Bluetooth 4.0, low energy, che funziona ovviamente soltanto con smartphone, con il Bluetooth 4.0. Vediamo l'applicazione per il telefono. Eccola qua, è Android Wear, questa qua. Abbasso un attimo la luminosità così potrete vederlo meglio. Ok, Android Wear. Ed ecco qua l'applicazione. Diciamo che non è molto articolata, comunque funziona abbastanza bene. Ci sono le nostre applicazioni che abbiamo installato. Per trovare le altre applicazioni che per ora sono abbastanza poche, ci basterà andare su Trova App Compatibili. E ecco qua. Queste sono tutte le applicazioni compatibili. Saranno una trentina. Diciamo che funzionano abbastanza bene tutte. E poi vi farò vedere quelle che mi sono piaciute di più. Forse la luminosità è un po' troppo bassa, no? Ok. Mettiamo da parte ancora il nostro telefono. Eccoci qua sullo smartwatch. Questo qua è Android Wear, la versione 4.4 KitKat. Per risvegliarlo ci basterà o inclinarlo, che è molto utile quando sarà al polso, o se no basterà tappare sopra. Una volta tappato sopra, si attiverà appunto. Questo qua è il quadrante, e qui in basso troveremo la notifica principale, in quel momento. Per cambiare, vedete che adesso è cambiata, per cambiare il quadrante, ci basterà tappare sopra e tenere premuto. Ecco qua. Ce ne sono abbastanza, una decina. E in futuro verranno implementati con gli sviluppatori che inseriano altre watch face sul Play Store. Tirando giù, possiamo mettere in silenzioso, che anzi silenzioso non è, però è vibrazione off. E possiamo vedere l'orario e la percentuale di batteria. Come possiamo vedere è all'84%, e lo sto usando da più o meno le 11, ed è, sono quasi le 3, 2 e mezza. Per accedere a Google Now, che è praticamente l'opzione principale di questo smartwatch, ci basterà o inclinare e dire, ok Google, ok, o se no sempre inclinare, oppure tappare e ritappare un'altra volta. E qua possiamo parlare. Da Google Now basterà fare uno swipe verso l'alto, l'alto e troveremo tutte le cose che possiamo fare. In fondo troviamo impostazioni, regola luminosità, e noi adesso siamo sulla 4, il massimo è 6. Non mi è mai capitato di andare sulla 6, perché diciamo che a 4 si vede molto ma molto bene, anche sotto la luce del sole. Schermo sempre attivo, come vi dicevo prima, adesso l'abbiamo messo sì. Spegni, riavvia, ripristina dispositivo, cambio quadrante, come vi ho fatto vedere prima, e informazioni. Possiamo vedere che modello G-Watch, ovviamente, è versione software 4.4V, che sarebbe per Wear. Aggiornamenti di sistema, non ce ne sono, il sistema è aggiornato, e basta così. Accedendo ancora a Google Now, possiamo trovare in fondo Avvia, dove ci sono le varie applicazioni. Ci sono la bussola, Fit, che praticamente sarà il nostro contapassi. Ok, qua come possiamo vedere, c'è la cronologia dei nostri passi, e la linea verde è il nostro obiettivo, obiettivo che si può impostare dalle impostazioni qua di fianco. In questo caso oggi ne ho fatti soltanto 1.375, ma sono sveglio da poco. questo sistema operativo si basa esclusivamente sugli swipe, non avendo tasti fisici il G-Watch. appunto, dal quadrante facendo uno swipe verso il basso ci saranno i passi, un altro swipe il meteo, eccetera, eccetera. Queste saranno praticamente le schede di Google Now. Meteo, che è abbastanza carino, vediamo i gradi, se è nuvoloso, c'è il sole, l'umidità e il vento, e anche dove siamo. Facendo uno swipe da destra verso sinistra, troviamo il meteo nei prossimi giorni, mentre facendo uno swipe verso sinistra un'altra volta, potremo aprire sul telefono. Facciamo apri sul telefono, facciamo uno zoom out piccolo, ho sbagliato, in questo caso ho lasciato passare troppo tempo, apri sul telefono, ci sarà un ok, ed ecco qua che saremo sul meteo. Questo in tutte le applicazioni che ci sono su questo smartwatch, e ovviamente su Android Wear. Passi che funzionano molto bene, poi vediamo nel vero specifico le applicazioni, come vi ho fatto vedere dall'applicazione per smartphone, le applicazioni sono una trentina, ma io ne ho installate veramente poche. C'è la bussola, Fit che vi ho fatto vedere prima, Fusiorari, Keep, che è abbastanza interessante. Andiamo su Keep, ci sarà il caricamento, andiamo sullo smartphone su Keep, facciamo un elenco, tipo lista smartphone, ok, sono abbastanza patito, lo so, mettiamo G3, mettiamo Z2, mettiamo M8, mettiamo P7, e come vediamo, anche sullo smartwatch si aggiorneranno in tempo reale. Se noi adesso, vabbè, cambiamo ad esempio il colore, mettiamo sull'arancione, se noi adesso clicchiamo su questa lista, possiamo fare, possiamo tappare su questi quadratini, e vediamo che anche sullo smartphone, verranno tappate, o comunque verranno spuntate, le voci che spuntiamo anche sullo smartphone. Molto comodo, se magari bisogna fare la spesa, o comunque qualcos'altro. torniamo indietro sul telefono, andiamo adesso indietro anche sullo smartwatch, e possiamo fare Archivia per cancellare, oppure Apri sul telefono, come tutte le applicazioni. Un'altra applicazione che ho trovato molto, ma molto interessante, è, adesso ve la mostro, state attenti anche al telefono, Runtastic, ecco qua, una volta tappato su Runtastic, si aprirà, sia sullo smartwatch, che potremo cominciare, il nostro allenamento, sia sul telefono, che possiamo vedere tutte le cose, andiamo su Diario, e, ci sarà, ci saranno tutti gli allenamenti, che abbiamo fatto, in questo caso ne ho fatti solo due, con lo smartwatch, questo andiamo su quello di 21 ore fa, e ovviamente troviamo tutte le cose, che ci sono sull'applicazione per smartphone, quella che mi vorrei, incentrare di più, è l'applicazione per smartwatch, ovviamente, perché questa è la recensione del G-Watch, tappiamo su Runtastic qua, e possiamo trovare, la distanza, la durata, le calorie, e tutto il resto, facendo uno swipe, da destra verso sinistra, tappiamo su Show Map, e vedremo tutta la mappa, che è tutto il percorso, che abbiamo fatto, è molto utile, perché ad esempio, noi controllando questi parametri, sullo smartwatch, collegando le cuffie, sul telefono, possiamo ascoltarle, sia attraverso le cuffie, sia guardarle, in tempo reale, sul telefono, molto bello, questo ecosistema, tra telefono e smartwatch, che veramente, mi ha lasciato, a bocca aperta, per cancellare le notifiche, ci basterà fare uno swipe, da sinistra verso destra, ecco qua, proviamo adesso, Google Now, ad esempio, chiama mamma, chiama mamma, ok, ci chiederà quale chiamare, vabbè, andiamo indietro, comunque ci farà chiamare, e poi però, lascerà da parte lo smartwatch, e dovremo continuare, con il telefono, ovviamente, non avendo delle casse, sarebbe stato comodo, se si poteva parlare, attraverso lo smartwatch, visto che ha un microfono, e ascoltare attraverso le cuffie, attaccate allo smartphone, ma penso che verrà implementato, con aggiornamenti futuri, come vi dicevo, resistente all'acqua, certificazioni P67, l'ho provato in doccia, e non ho avuto, nessun tipo di problema, prezzo di lancio, 199 euro, con, mi sembra, 9,90 euro di spedizione, il tutto sarà 209 euro, è molto per quello che fa per ora, però, diciamo che, in futuro, con le nuove applicazioni, da parte degli sviluppatori, potrà diventare, una cosa, veramente, ma veramente, fatta bene, una cosa utile, c'è la navigazione, sfrutta il GPS, del telefono, è veramente, uno smartwatch completo, non ne vedevo l'utilità all'inizio, e poi, un po' scettico, ho comprato il G-Watch, devo dire che mi sto trovando, veramente, ma veramente bene, per SmartphoneLab.it, e le ore neri, ciao a tutti.